Perché anche questa volta l'emergenza in Italia è stata affidata a un tecnico? Beh, io direi che questa non è un'emergenza normale e non è un'emergenza che abbiamo mai visto prima, forse con la fine dell'ultima guerra. Quindi direi che in questo caso non è routine e serve una persona con delle capacità e, come ho detto prima, delle conoscenze, una reputazione molto speciale e molto particolare. E questo Draghi ce l'ha per quello che ha fatto nel suo lavoro e per la reputazione che ha in giro per il mondo. Io direi commissariare no. In questo caso la persona giusta è lui, lavora lui, dobbiamo farlo lavorare. Non bisogna commissariare lui, nel senso che la politica non deve, nel cercare di avere magari un punto in più di consenso, creare difficoltà a lui e al governo che sta lavorando. Quindi non voglio dire commissariare, è una brutta parola, e direi anche offensiva per la politica, quella buona. Per la politica che non è buona va benissimo. Però direi commissariare no, però lasciamolo lavorare e non sia la politica a commissariarlo. Oggi, vede, dottore, c'è un'occasione incredibile. C'è un mondo di giovani politici, da destra a sinistra, come non abbiamo mai avuto. In alcuni casi anche molto capaci. Bene, loro devono essere i primi a lavorare col governo, sia che siano dentro al governo o che siano fuori dal governo, anche perché li stanno costruendo draghi e compagni, stanno preparando l'Italia di domani e quella la dovranno gestire loro. Quindi facciamo in modo che tutto funzioni, soprattutto facciamo in modo di non perdere la reputazione buona che il Paese ha, perché non è vero che il Paese fuori ha una reputazione non idonea, come qualcuno dice. Il nostro è un Paese ben reputato, facciamo lavorare le persone e guadagniamoci la fiducia di quelli che ci stanno sostenendo in questo momento. Senta, se io la dovessi leggere con un po' di malizia questa sua dichiarazione, però leggerei. Guardate, è un'occasione unica. C'è Draghi, adesso siete giovani, mettetevi da una parte, studiate, preparatevi, ma lasciate lavorare. Andiamo avanti, diciamo, senza che voi dobbiate rovinare nulla. È questo che dice ai giovani politici delle nuove generazioni che dovevano guidare il Paese. Sono d'accordo, la penso assolutamente come lei e è la cosa giusta da fare e mi auguro anche che lo faremo. In parte lo stanno già facendo, obiettivamente. Va tolto l'acceleratore su quelle che possono essere delle strategie elettorali di corta visione, perché il problema oggi è un problema enorme e l'occasione è un'occasione irripetibile. Non capiterà mai più di avere tanto denaro a nostra disposizione per aiutare il Paese a diventare un Paese moderno come alcuni dei Paesi europei che ci stanno vicini. Non ricapiterà più e non dobbiamo perdere questa occasione. Ecco.